Ancora siamo a valori molto alti, quasi 170 posti letto in terapia intensiva raccontano il cuore di questa storia, più di 1100 persone ricoverate nelle nostre strutture e una quantità importante di persone che stanno a domicilio come sottoscritto in quarantena, parliamo di quasi 4000 persone. Una curva che ancora continua a crescere nella provincia di Pesaro Urbino con una pendenza diciamo minore, quindi con un'intensità minore, in maniera piuttosto decisa nell'Anconetano e ancora con valori sostenuti nella parte sud della regione. Ecco perché è difficile in una dinamica così particolare, dove un territorio è partito molto prima degli altri, ci sono almeno due settimane tra Pesaro Urbino e Ascoli, in termini di differenza temporale nel valutare la cosa, poter dire quando la situazione svolterà. Certo, col passare il tempo diverse cose sono migliorate, la prima che ovviamente la parte sud della regione ha potuto godere per un periodo più lungo di misure restrittive che tengono fermo il sistema e riducono le possibilità di contagiarsi. L'inizio di terapie che si fanno già da casa, con la struttura che stiamo mettendo in piedi di medici che nel territorio andranno a trovare i pazienti positivi e la possibilità di iniziare alcune terapie prima ancora di avere una fase più acuta, più avanzata, ovvero in ospedale. Quindi un quadro che dà delle opportunità in più, ma una curva che continua a crescere. Io credo che almeno fino a metà di aprile continueremo a crescere e allora potremo valutare ancora meglio la situazione se siamo vicini al punto di svolta o ci sarà ancora da combattere con questo maledetto virus. Ecco perché lei insiste su questo ospedale, diciamo, da 100 posti letto di terapia intensiva, oltre a quello che è appena stato confermato e che lei ha chiesto questa mattina, che è un ospedale da campo della Marina Militare che verrà, credo, installato a Iesi. Sì, sono due oggetti molto diversi. L'ospedale da campo serve ad aiutare soprattutto nelle degenze ordinarie, cioè una struttura, quella militare, che aiuterà, per esempio, un ospedale Covid come quello di Iesi, che è carico, insomma, in termini di pazienti, perché con sé non porta solo la struttura, ma porterà anche i medici militari, gli infermieri e quindi un sostegno a tutti quelli che stanno lavorando in quella struttura, direi, più in generale, l'area vasta 2 che sta per affrontare una fase particolarmente critica. Mentre l'altra struttura è per tutta la regione, Civitanova è baricentrica rispetto alla regione Marche, è in una posizione, all'uscita del casello d'autostrada, tre minuti dall'ospedale di Civitanova, nella fiera, quindi il luogo più facile dove montare una struttura in tempi rapidi, ed è una scelta importantissima, perché quei 100 posti letto di, fra terapia intensiva e semi-intensiva, saranno necessari nel momento in cui arriveremo al picco, ma continueranno ad esserlo per permettere al sistema di respirare. Voglio fare alcuni esempi. Noi stiamo rimandando ormai da quasi un mese tutta l'attività programmata su quelli che non hanno il Covid. E non è che questa cosa è rimandabile a tempo indefinito. Poter contare su una struttura come quella significa anche poter riattivare, magari dopo nella seconda metà d'aprile, anche quell'attività programmata, perché oltre che di Covid si muore anche di infarto e di altre malattie, quindi serve che ci sia una maggiore capacità di rispondere non solo al malato Covid, ma anche agli altri. Ci sarà necessità di continuare a offrire quel tipo di terapia, almeno dalla prospettiva di oggi, perché abbiamo visto che le persone ci rimangono parecchio tempo e per fortuna qualcuno ne esce, quindi è chiaro che è una strategia terapeutica estrema, ma assolutamente importante. Ed è, dopo aver visto quello che è accaduto a Milano, che è riuscito il buon Bertolaso in un paio di settimane a realizzare una struttura di 200 posti, non provarci da noi l'avrei ritenuto un grandissimo errore. Dobbiamo provare fino in fondo e mettere in campo tutto quello che possiamo offrire per i nostri cittadini, per quello che serve, guardando avanti, guardando una curva che cresce e guardando un bisogno che sicuramente avremo. Per quanto riguarda la raccolta dei fondi, a che punto è? 12 milioni servono questi soldi, ma a che punto è la raccolta? Allora, la raccolta fondi procede, ci sono sia soggetti che vogliono donare risorse, denaro, ma anche chi mette a disposizione e vuole comprare direttamente tecnologie, impianti molto costosi che servono alla struttura. Io credo che il combinato disposto di queste due forme di generosità ci permetterà di fare, anche perché la struttura di Bertolaso è estremamente flessibile, non è che per forza vuole avere risorse economiche. Va bene l'uno, va bene l'altro, va bene le risorse economiche, va bene chi mette a disposizione tecnologie che verranno poi utilizzate. Senta Presidente, è impossibile trovare le mascherine, c'è questa richiesta di tamponi. Ci può dire se è possibile in qualche modo risolvere anche questo problema, visto che l'emergenza ancora durerà a lungo? La situazione dei tamponi, se voi guardate i dati che pubblichiamo tutti i giorni, in realtà siamo riusciti a crescere notevolmente nel numero che vengono fatti. Il piccolo paradosso che abbiamo avuto è che una volta messe in avvio due macchine importanti, una Pesaro, un Ascoli Piceno, in grado di fare 800 tamponi a giorno ciascuna, quindi un'aggiunta di 1600 tamponi, c'è una grossa difficoltà in questo momento a reperire il reagente. Avendo poco reagente, di nuovo un po' come poche mascherine, un po' come poco materiale di protezione individuale, bisogna operare con un ritmo che sia compatibile con le riserve che abbiamo di reagente, e soprattutto sempre di più l'attenzione forte riservarlo a quelli che ne hanno un bisogno, chiamiamolo più urgente. È chiaro che risolvendo, speriamo si risolva, che la disponibilità torni ad esserci nel reagente in termini in quantità sufficienti, noi siamo organizzati per poterne fare molti, molto di più. Si sta facendo anche una tecnologia che è stata riconosciuta dalla Food and Drug Administration, un po' l'equivalente dei nostri organi che autorizzano il farmaco in Italia e negli Stati Uniti, sui test sierologici. Questo ci dà un'altra opportunità, quello di giocare una seconda carta, non solo il tampone, ma anche un test che si fa alla classica gocciolina di sangue, per intenderci, che lo facciamo nel diabete o in altre situazioni, applicato proprio al coronavirus, quindi con la possibilità di determinare la situazione della persona. Già ha fatto un primo acquisto con gara la struttura di torrette, so che si sta attivando anche l'area vasta 1, da questo punto di vista, con la collaborazione dell'Università di Urbino, per avere degli stick affidabili, e questo darà una mano, sperando di recuperare presto, comunque anche la questione principale, che è quella di avere reagente. Molti mi chiedono perché abbiamo pochi guariti, perché potendo fare pochi tamponi, avendo poco reagente, riserviamo i tamponi a chi deve verificare se è positivo e iniziare le cure. Rimandiamo un po' più avanti il tema dei guariti, ma sappiate che sono già state dimesse e guarite nella nostra regione 175 persone. Quando riusciremo a fare tutti i tamponi ai 175, avremo molti più guariti di quelli che abbiamo oggi. Ho visto comunque nell'area cacciatori, anche qui di fianco a noi, al Codman, già hanno messo la cartellonistica, percorso guariti per i tamponi che dovranno fare per verificare appunto. Sì, perché per essere dichiarati guariti bisogna avere due tamponi consecutivi negativi, solo che quando si negativizza una persona, non è che lo sai, non è una data come la scadenza dello yogurt, ha una temporalità diversa, quindi in realtà spesso non sono due tamponi, sono tre, quattro tamponi. Sono tanti i tamponi che servono per dichiarare una persona completamente guarita. Siamo in un clima in cui si deve stare a casa, non ci si deve muovere, comunque dobbiamo stare attenti. Abbiamo fatto la scelta di dare la priorità a chi invece deve scoprire se è malato o no e quindi prendere un'altra via. Come dicevo prima, immaginando che il reagente torni ad arrivare in maniera più significativa, a quel punto siamo pronti, abbiamo lavorato per avere tutte le macchine che servono per raccogliere tanti tamponi e poter riprocessare. Intanto grazie, non le ho chiesto all'inizio come sta, ma vedo che sta bene, quindi non ci sono problemi. Quindi la ringrazio per essere stato con noi, siamo dentro il telegiornale, devo chiudere, ma magari ci risentiamo nei prossimi giorni. Molto volentieri, nei prossimi giorni. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a tutti.